Ci troviamo presso ADOC Taranto, stiamo cercando di illustrare le varie attività di ADOC Puglia nelle varie appunto sedi territoriali. Oggi come detto siamo a Taranto o al mio fianco l'avvocato Francesca Bommino che è appunto il responsabile dell'area legale per ADOC Taranto. Vari tantissimi le battaglie, le tematiche, le problematiche affrontate, quest'oggi affrontiamo quella legata ai mutui. Buongiorno, la problematica relativa ai mutui è una di quelle più frequenti in quanto molto spesso si rivolgono a noi tanti consumatori, tanti cittadini che vengono da noi lamentando del fatto che dicono avvocato la banca non mi concede il mutuo. Ora quando si parla di mutui per l'acquisto dell'abitazione si parla principalmente del cosiddetto credito fondiario ovvero quella forma di finanziamento che la generalità dei cittadini utilizza proprio per l'acquisto o la ristrutturazione di quella che è la prima casa quindi l'immobile dove poi andranno ad abitare. Bisogna inquadrare la problematica del mutuo partendo da cosa è un mutuo. La normativa italiana quindi il testo unico bancario all'articolo 38 individua il mutuo, anzi il credito fondiario come quel contratto di finanziamento dove c'è una parte il mutuante che concede a un'altra detto mutuatario appunto una somma di denaro con l'accordo ovviamente che sarà restituita in un arco di tempo dilazionato con delle rate che vanno a concordare affinché possa parlarsi di credito fondiario e non semplicemente di mutuo ipotecario è importante che questo finanziamento rispetti due caratteristiche la prima riguarda la durata quindi deve avere una durata compresa fra i 18 mesi e massimo 20 o 30 anni la seconda riguarda la garanzia concessa alla banca cioè questi mutui si caratterizzano per il fatto che la banca viene garantita della restituzione dell'importo attraverso un'ipoteca che deve essere di primo grado sull'immobile che poi il consumatore, il cittadino andrà ad acquistare o a ristrutturare questo limite di finanziabilità è molto importante perché è proprio a questo che è legato l'aspetto della concessione del mutuo al cittadino in quanto la legge stabilisce che per questi tipi di finanziamenti l'importo massimo che può essere concesso può arrivare massimo fino all'80% del valore dell'immobile che si va acquistare o delle spese di ristrutturazione ma mentre c'è un limite massimo che può essere elevato al 100% solo qualora un terzo soggetto presti garanzie aggiuntive come per esempio una fila di uscione non si parla di limite minimo e la somma che poi la banca va a concedere è legata sia alla stima da parte dei propri esperti sia al cosiddetto merito creditizio ovvero la banca valuta la capacità del soggetto di restituire l'importo del finanziamento e dato che le banche sono società private quindi non hanno l'obbligo di concedere finanziamenti a tutti coloro che li richiedono necessariamente operano una scelta che da un lato è discrezionale dall'altra data l'importanza capitale che rivestono le banche per il sistema finanziario e quindi per l'economia in generale devono sottostare delle leggi che sono di carattere sia comunitario quindi normativa europea ma anche normativa nazionale sempre con il testo unico bancario che obbligano proprio la banca a valutare il merito creditizio cioè la capacità del soggetto di restituire mensilmente questi importi per fare questo ovviamente ricorrono alla consultazione di quelle che sono le centrali rischi cioè degli archivi sostanzialmente nei quali sono registrate informazioni che riguardano proprio questa capacità dei soggetti di adempire finanziamenti quindi quando una persona viene da noi e dice avvocato la banca non mi dà il mutuo molto probabilmente anzi nella quasi totalità dei casi deriva o dal fatto che non hanno un lavoro stabile che quindi non permette la restituzione o dal fatto che per quella che è la loro storia creditizia la banca ritiene che quella somma, quell'importo sia troppo elevato quindi quello che poi si va a fare è provare a cercare di chiedere lo stesso finanziamento presso altre banche perché appunto considerando che sono società private nessuno vieta anche se hanno delle conseguenze di concedere prestiti e sia perché molto spesso questi cittadini devono prima sistemare quelle che sono le passività pregresse poi il limite di finanziabilità è molto importante perché qualora la banca non lo rispetti proprio perché è una norma fondamentale a tutela dell'ordinamento il cittadino può anche rivolgersi a un giudice chiedendo che il giudice dichiare in nulla il contratto e restituire solo il capitale e non gli interessi quindi proprio per questo le banche sono molto attente Grazie Grazie